Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di sabato che attenzione vedrà un'estesa e intensa perturbazione sull'Italia associata a un centro di bassa pressione, condizioni di maltempo nel nostro paese. Lo capiamo anche dalla previsione della nuvolosità, guardate Italia sotto questa estesa appunto copertura nuvolosa che porta anche piogge piuttosto intense e insistenti, soprattutto vediamo la previsione delle precipitazioni al nord e sul versante tirrenico dove non escludiamo anche qualche temporale, anche la neve sull'arco alpino ma a quote medio-alte, quindi in definitiva sabato da ombrello a portata di mano in tutto il paese ma soprattutto diciamo al nord e sulle regioni tirreniche. La neve oltre ai 1500 metri sull'arco alpino, il versante adriatico e ionico magari avranno piogge un po' meno diffuse. In compenso temperature relativamente miti, non farà freddo, complice anche il vento da sud che soffierà sostenuto, ma per tutti i dettagli sulle vostre zone aggiornato scaricate la nuova app di Trebi Meteo.